Era una di quelle giornate in cui tra un minuto nevica e c'è elettricità nell'aria puoi quasi sentirla mi segui e questa busta era lì danzava con me come una bambina che mi supplicasse di giocare per 15 minuti è stato il giorno in cui ho capito che c'era tutta un'intera vita di ogni cosa è un'incredibile forza benevola che voleva che sapessi che non c'era motivo di avere paura mai vederla sul video e povera cosa lo so ma mi aiuta a ricordare ho bisogno di ricordare a volte c'è così tanta bellezza nel mondo che non riesco ad accettarla il mio cuore sta per franare A presto! 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 A presto!